Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori La Fiorentina si prepara alla sfida di domenica a Torino contro i Granata e per l'occasione ha parlato oggi in una lunga intervista il difensore giliato Martin Cazares L'uruguaiana ammette che la Viola sta vivendo un periodo difficile con tre sconfitte consecutive che pesano sull'andamento del campionato ma dopo aver vinto in Coppa contro il Cittadella c'è la volontà di ripartire anche in Serie A L'impegno è di quelli complicati con un avversario che allo stesso modo sta vivendo un periodo non particolarmente felice ma Cazares ci dirà a non far calare l'attenzione sul match e sulla sua importanza Poi sul futuro ammette di trovarsi bene a Firenze e di voler trovare stabilità in città dopo aver cambiato diverse squadre in passato Infine il suo sogno è quello di giocare ancora a lungo sia in nazionale con la centissima partita in Sereste come obiettivo sia con la Fiorentina con la quale perché no vincere un trofeo che manca da tanto tempo Dunque all'antivigile di una sfida così delicata per il campionato della Viola e per la panchina di Vincenzo Montella Martin Cazares suona la carica nel gruppo davvero leader Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Per Fiorentina1.com Pasquale De Stefano